Musica Buongiorno a tutti e benvenuti ad Hannover. Il mio nome è Elena Andreo e sono la coordinatrice marketing di termotecnica Pericoli. Siamo presenti alla fiera Eurotir 2016, manifestazione leader su scala mondiale per quanto riguarda il settore del lifestyle. Una fiera molto importante che richiama visitatori da ogni parte del mondo. Per questo motivo risulta essere un evento molto importante e peculiare per la nostra azienda, la quale decide di partecipare con uno stand di grandi dimensioni, di grande impatto e il suo staff al completo in modo tale da soddisfare le esigenze di tutti i clienti e visitatori interessati provenienti da ogni parte del mondo. Eurotir 2016 è stata l'occasione ideale anche per il lancio su scala mondiale del nostro nuovo estrattore a cono, creato e ridisegnato dai nostri servici dell'ufficio ricerca e sviluppo utilizzando le tecniche innovative del nostro Perilab. EOC 53S nasce sulla falsariga del vecchio estrattore a cono della nostra gamma prodotti. Il nostro project manager Luca Piana, qui presenti in fiera, ci spiegherà tutti i dettagli del nostro nuovo prodotto. Grazie Elena. Questo nuovo estrattore a cono presenta una nuova pala di design innovativo che sarà disponibile a sei foglie in alluminio oppure a tre foglie in alluminio per tutte le motorizzazioni. C'è stata inoltre un'innovazione relativa alla forma del cono di scarico dell'aria, mantenendo alcuni standard relativi al vecchio estrattore a cono, quali le alete removibili per una migliore manutenzione e eventualmente sostituzione del motore elettrico e il tensionatore automatico per la cinghia. Le prestazioni sono state notevolmente incrementate con la conseguente riduzione della potenza assorbita e quindi un aumento della efficienza specifica del ventilatore, mantenendo le stesse dimensioni del vecchio ventilatore in modo tale che per una più semplice sostituzione in caso di manutenzione a capagnoni. Grazie! 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 Grazie!